Roll BTR Ciao a tutti, sono Nathan, settimo finalisti, undici anni, prima me del sesto miglio, il mio talento è cantare da grandi vorrei fare il dottore, mi sono unito a Bad Analdo per conoscere dei nuovi amici e per divertirsi, per tutti i finalisti vi dico, bocca al lupo che vince il migliore. Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!